Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Questa volta ci hanno sentito Ormai tutti i mesi ci stiamo vedendo Partiamo da dove ci eravamo lasciati Sto portando avanti questo obiettivo Dobbiamo assolutamente arrivare al 70% di conversione e notizie in entrata in incarichi di vendita Devo dire che mi sembra che sia un'iniziativa molto bella perché sta caricando ognuno di voi a dare il meglio sul lavoro per raggiungere questi obiettivi Ho la fortuna di fare un lavoro che amo, che mi piace Sono entrato ormai due anni e mezzo fa Era il primo lavoro che facevo al termine della scuola Ho incontrato persone serie, un gruppo forte Siamo in questa grande famiglia che ci porta a fare sempre un po' meglio Ci aiutiamo sempre tutti a vicenda quindi Io incontro ogni volta tutti gli stagisti che iniziano questo percorso nella nostra azienda Per noi le persone sono fondamentali fondamentali perché sono coloro che ci rappresentano nella vendita di questo servizio Primo passo per creare un bel team di lavoro Adesso con il nuovo contratto ti raggiungerà e quindi tu diventerai Sono stato fortunato perché durante la Golden Domus Summer Edition C'ho il mio mentone a fianco Devo fare comunque complimenti anche ai ragazzi che loro sono la forza reale Stanno facendo con Briccola, con lo spritz magari Tutti Ha capito bene come si batte L'obiettivo è uno, prende la statuetta Secondo me devi essere sensibile e strong allo stesso tempo L'obiettivo è quello di fare sempre meglio e quindi Abbiamo formato un ottimo gruppo e stiamo andando alla grande Insomma quando uno è concentrato e sa fare l'attività penso che tutto vada in discesa La ricetta è lavorare con sostanza e dare sempre il massimo Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Pungiball Prendeteci a pugni con le vostre domande È l'essenza del grande gruppo che siamo Quindi grazie davvero, buon lavoro, buon utilizzo e buona prosciura a tutti Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!